Natale, Natale Cucurese, al telefono. Vieni, a proposito di Europa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Da prima, quando lo permetteva, non c'era un problema di pandemia, in presenza, poi abbiamo fatto, questo siamo partiti già tre anni fa, poi chiaramente con delle dirette Zoom online e poi adesso, fortunatamente, abbiamo ripreso un attimo a fare le presentazioni, le riunioni, convegni in presenza. Abbiamo prodotto un libro che si chiama Lezioni Meridionali, che è uscito nelle edicole, sempre tramite ovviamente l'Efte, che adesso stiamo presentando. In più, tanti documenti e appelli anche ai parlamentari. Pensiamo quest'anno di concludere, diciamo, in questa fase di lavoro con un forum del Sud nel mese di luglio, dove stiamo contattando tante realtà territoriali, associazioni, individui e quant'altro, per portarli tutti quanti nel nostro percorso. Perché il problema, come abbiamo scritto più volte e come stiamo anche definendo appunto negli incontri sui territori, è che il Sud mai, come in questi anni, è completamente senza rappresentanza. Una rappresentanza politica. Adesso, per fortuna, devo dire la verità, abbiamo incontrato anche ieri alcune rappresentanti di Manifesta e anche la senatrice Nugnes, che oltretutto sono tutte quante donne coraggiose del Sud. Quindi c'è una rappresentanza grazie a queste deputate. Ma nel complesso è chiaro che bisogna cercare assolutamente di rinforzare questa rappresentanza, perché il Sud, come tutti saprete, purtroppo è ancora alle prese con la questione meridionale, è una questione che dopo più di 160 anni ancora non si riesce a risolvere. Addirittura i grillini che hanno tradito tutto quello che avevano detto elettorale nel 2018. Sicuramente non so più. Nel 2018, addirittura Conte, come avrete forse notato il 13 agosto con una lettera al Corriere della Sera, ha abbandonato completamente la questione meridionale per passare alla questione settentrionale a Milano locomotiva, anche per motivi di tempo. Non vi annoierò con tutte le problematiche che ci possono essere con l'autonomia differenziata, che va avanti, la strada dell'autonomia differenziata, anche se, anche tramite i comitati contro ogni forma di autonomia differenziata, di cui facciamo parte anche come laboratori del Sud, stiamo cercando di contrastare sui territori in tutti i modi, anche facendo sponda con queste deputate di cui vi dicevo prima. Il passaggio con l'Europa, adesso in modo molto sintetico, io credo che ce lo giochiamo su quella che è uno dei motivi che trovate quasi tutti i giorni sui giornali, cioè questo, io chiamo la truffa, la truffa del PNRR. È una truffa per tutti i cittadini italiani perché in realtà chiaramente impegna alla restituzione di questo debito che viene contratto e impegnerà sia noi che nei prossimi vent'anni i cittadini italiani, ma è una doppia truffa per il mezzogiorno, perché come saprete la percentuale indicata dall'Unione Europea, intanto nasce questo, una cifra così alta per l'Italia, 191,5 miliardi di euro, proprio per l'enorme differenziale che c'è tra il nord e il sud d'Italia, è una cosa vergognosa, che non ha uguali nella Unione Europea sicuramente, ma è difficile anche trovarlo nel mondo, una simile differenza. e una simile differenza e praticamente il problema è che l'Unione Europea, proprio per cercare di, così, un attimo di controbilanciare, aveva destinato all'Italia la cifra più alta tra tutti i paesi europei. Era circa il 65%, doveva essere, è stato ridotto al 40% con una decisione del governo, ma poi andando un attimo a studiare quelli che sono i meccanismi e i vari bandi che sono stati delineati, si può tranquillamente dire che la quota per il mezzogiorno scende fino a un 16%. Non si teme smentita su questi numeri, sono stati analizzati anche da vari economisti, tra cui anche il professor Viesti dell'Università di Bari. Cosa voglio arrivare a dire? Che anche questa sarà l'ennesima occasione perduta per il mezzogiorno. L'Europa, io ho sentito l'introduzione di questo nostro incontro, che mi trovo assolutamente d'accordo, questo tipo di Europa, questo genere di Europa, pur essendo tutti noi internazionalisti, sicuramente non ci soddisfa. Chiaramente, voglio dire, questi dati sono stati sottoposti anche alla Commissione europea che li ha vagliati, ma alla fine non sta intervenendo a difesa del mezzogiorno. Le logiche, appunto, sono già state espresse, per cui non mi ripeto, anche per questioni di tempo, però è chiaro che è un'Europa liberista, è un'Europa che guarda più che al benessere dei cittadini europei a criteri economici. Adesso poi addirittura con la guerra vediamo quello che sta succedendo proprio in queste ore. Era un'Europa che, vi ricorderete, l'Italia ha fatto anche notevoli sacrifici per poter entrare in Europa. Ci veniva detto da Prodi che avremmo lavorato un giorno in meno, ma guadagnato come se avessimo lavorato un giorno di più, che non ci sarebbero stati problemi per quanto riguarda, ad esempio, la benzina, il gas e quant'altro. Vedete che tutto il castello, proprio in questi giorni, non solo sta crollando, ma l'Europa, che doveva difendere la pace, in realtà ci sta portando direttamente in guerra. Per il Sud, e chiudo, questo passaggio è veramente drammatico, perché nel mezzogiorno abbiamo, da statistiche Istat del 10 di marzo, la percentuale più alta di cittadini in povertà assoluta, il 10% delle famiglie, il 12% degli individui. La quota più alta di net all'Italia, cioè di ragazzi che non studiano e non lavorano, c'è anche oggi un articolo sull'ennesimo articolo, direi, sulla Repubblica, ma in realtà tutti questi dati vengono dati con la media del pollo, se si vanno poi a controllare per territorio, noi vediamo, ma questo è una cosa che già alcuni anni che sono così, che la quota più alta nel mondo è al mezzogiorno, con la Calabria al primo posto, per l'appunto in Europa. Quindi questo problema, a parte aspetti etici di ogni altro tipo, della guerra affosserà completamente l'economia meridionale e solo per rimanere proprio negli ultimi giorni, la cronaca degli ultimi giorni, noi vediamo che per quanto riguarda l'autonomia differenziata, la Ministra Gelmini, il primo di aprile, quindi proprio anche una data iconica, ha proposto di mettere in soffitta i LEP, i LEP e quindi rimanere alla spesa storica, i LEP attendono dal 2001, quindi dalla modifica del titolo quinto. E ieri, sul Corriere della Sera, la Ministra del Sud, Gelmini, anche qua bisognerebbe un attimo pensare al fatto che in Italia abbiamo un Ministro del Sud, la Carfagna, scusate, la Ministra Carfagna, abbiamo un Ministro del Sud, ma non abbiamo un Ministro del Nord, è un po' come una volta c'era il Ministro delle Colonie, perché il Sud in effetti è una colonia, è una colonia interna, ha proposto un forum del Sud, dicendo chiaramente in questa intervista che è aperta soprattutto alle aziende settentrionali, ai tin tank, alle multinazionali e chi più ne ha più ne metta. Quindi la visione è sempre quella di uno sfruttamento che continua, intanto continua l'immigrazione che da dati OX è tornata ai livelli di fine ottocento, quindi insomma la situazione è sempre peggiore. Chiudo semplicemente dicendo che ricordo che l'esercito italiano, per chiudere questo aspetto di Sud Colonia, l'esercito italiano è composto, non a caso, visto la mancanza di lavoro, per il 72% da soldati meridionali, quindi cittadini meridionali. Ho approfondito un attimo l'aspetto quando c'è stata la guerra nel Vietnam, che voi vi ricorderete, sono nate da parte degli afroamericani, tutte quelle serie sia di rivolte che di forme di resistenza, Martin Luther King e quant'altro bene. I cittadini afroamericani nell'esercito erano l'11% contro il 74% dei meridionali e quelli che poi morirono, furono feriti o dispersi, eccetera, eccetera, furono il 28%, quindi la percentuale è molto più alta perché venivano poi utilizzati nelle missioni più rischiose, un po' come quello che accade alla brigata Catanzaro nella Prima Guerra Mondiale. Questo mi fa pensare che purtroppo anche questa guerra, sì, può rappresentare un bagno di sangue proprio per il mezzogiorno, per i suoi cittadini. Ecco perché dico Sud Colonia, ecco perché si può parlare anche di razzismo di Stato, io mi auguro che ci sia una rivolta pacifica, ovviamente, così come capitò nell'America degli anni 70, anche nel nostro mezzogiorno, e che, voglio dire, questa rabbia che nel 2018 si è riversata verso il Movimento 5 Stelle si possa riversare per le prossime elezioni politiche verso la sinistra, diciamo così, e quindi siamo qua anche per questo, per intercettare la rabbia che viene dai territori, c'è bisogno quindi di andare avanti, ecco perché la sinistra in Europa è importante. Grazie.